Attenzione, si ricorda a tutti gli automobilisti che fino al prossimo 15 aprile è in vigore l'obbligo di catene a bordo, pneumatici invernali e votati. L'inverno, eccolo qua, gli pneumatici devi cambiare, ma non sai chi lo fa? Delta pneumatici le gomme cambierà e l'inverno sarà sicuro per chi guiderà. Delta pneumatici si occupa anche della meccanica leggera e manutenzione ordinaria per autoveicoli di tutte le marche. E allora, prenota il tuo cambio gomme e un check-up dalla Delta pneumatici. Telefona allo 0165 55 18 19 o prenota sul sito delta pneumatici.it. Siamo in via Parigi 218 a Orta. Delta pneumatici, siete in buone mani! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS